Non solo elezioni regionali. La tornata elettorale fissata per domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 raccoglie diversi appuntamenti per il nostro territorio oltre all'elezione del nuovo governatore e al referendum sul taglio del numero dei parlamentari. In particolare, due comuni della provincia di Pesaro e Urbino sono chiamati alle urne per scegliere il primo cittadino. Ad Isola del Piano i candidati alla carica di sindaco sono Giuseppe Paolini, già presidente della provincia di Pesaro e Urbino, che in caso di vittoria con la sua lista Isola nel Mondo per una crescita locale, conquisterebbe il terzo mandato, opzione possibile per Isola del Piano visto il numero di votanti poco inferiore a 500. L'altro candidato è invece Giacomo Toccacieli, della lista Adesso Noi con Giacomo Toccacieli sindaco. Anche i cittadini di Sant'Angelo Invado, con un corpo elettorale poco superiore alle 3.600 persone, saranno chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino del comune, potendo scegliere tra tre candidati, Stefano Parri della lista Patto per Sant'Angelo Invado con Stefano Parri, Emanuela Galli con la lista per Sant'Angelo Emanuela Galli e infine Romina Rossi nella lista Leali per Vado Romina Rossi. Infine anche a Monte Ciccardo gli appuntamenti elettorali non si limiteranno a regionali e referendum. Le urne saranno aperte anche per eleggere il nuovo consiglio municipale. A presentarsi ci sarà la lista civica in comune Monte Ciccardo, rappresentata da diverse personalità, tra cui alcune che in passato hanno anche amministrato Monte Ciccardo. Per far sì però che le elezioni riguardanti il municipio siano valide, è richiesto un quorum del 50% più uno dei votanti, altrimenti sarà commissariato dal comune di Pesaro.